Buongiorno a tutti i miei consigli di fare la basica balena è un ricamo abbastanza semplice, per prima cosa un quadrato come ho detto prima è che è abbastanza semplice la balena, non è complicatissima farla però il classico quadrato, ormai sapete chi mi segue tagliarino questo mi serve e questo è un solo bisogno allora, fatto il quadrato, questo lato va in mezzo così e questo lavoro di parte così prendiamo questo lato e lo mettiamo qua in mezzo no, cioè non in mezzo ma poi è la provvediamo e facciamo lo stesso piegatore di qua mi raccomando questo è qua da essere fuori prendiamo questo lato, questo qua tutto questo lato qua e lo mettiamo qui in mezzo e lo mettiamo qui in mezzo e lo facciamo male e lo mettiamo qui in mezzo così stessa lato proprio di qua quindi lo facciamo e lo facciamo la parte è aperta in su e non ho mandato poi prendiamo questo lato lo mettiamo in mezzo e lo facciamo Così. Così. Prendiamo questo lato e lo mettiamo in mezzo così. Però facciamo una riga completa, un puntino da segnare. Poi, questo qui, dove c'è il puntino. E qui facciamo una bella pedatura. La facciamo così. Mettiamo le alette in questa direzione e facciamo una pedatura qui. Per così. Seguendo... L'ho sbagliato. Di questa parte. Così. È giusto. Ad oggi, cosa sto facendo? E fare una cosa del genere. Stesso lavoro di qua. Per così. Quindi mi raccomando le alette, diciamo, di questa parte qua. Non di qua. L'ultimo piegatore. Questo qui, bisogna metterle per così. Seguendo. Ma all'interno. Cioè. Uno. E due. Qui. Chiudo. Poi. La coda. Alziamo qua. da formare. Da formare. Da formare. Una cosa. Un bel cucchia. Poi. Con un tagliarino o forbice. Meglio la forbice. Si taglia. La riga. In mezzo. Non so. Se mi viene bene. Quale il tagliarino. Perché è sicuro. Il primo a forbice. Da formare. Così. E si tira giù. Seguendo. Questa riga qua. Una. E due. A presto. A presto. A presto. A presto.